straordinario signor De Luca, veramente straordinario bene signor De Luca, la prossima domanda è quella da 15.000 euro ecco la domanda signor De Luca per 15.000 euro quale artista nel 1952 ha vinto la seconda edizione del Festival di San Reno? e con quale canzone? O Dio del Cielo, se fossi una colomba vorrei volarla giù dove il mio vent inginocchiati a San Giusto prega con l'animo mesto fa che il mio amore torni, ma torni presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.